detto francamente senza ipocrisia affrontare quelli là e per quelli là intendo i soldatini di Juric non è mai affare semplice ma poi nelle condizioni in cui verso il Milan in totale emergenza diventa quasi proibitivo ecco non sto qui e non voglio neanche poi avere l'onere di allarmare i cuginetti perché poi magari se la prendono con me quando in realtà sto qui soltanto a snocciolare il mio pensiero snocciolare il mio ma davvero ho usato il verbo snocciolare di prima mattina mentre che voi state magari snocciolando brioscina cappuccino piuttosto che spremutino magari siete semplicemente comodamente seduti sul vostro trono ovale piuttosto che il lettino o il divanuccio magari siete sulla tangenziale non lo so affari vostri baldi giovani buongiorno innanzitutto ma non siamo qui a parlare di queste non capisco neanche perché poi divago ma che cavolo divago non lo so ma siamo qui a parlare della probabile formazione di Verona di Verona Milan quindi delle problematiche delle assenze perché no anche magari di relativi problemi riguardanti la preparazione i preparatori atletici perché no sentite tante ed è qui ci voglio arrivare voglio e voglio dire la mia prima però tre cosette la prima scaricarla per essere aggiornati per restare sul pezzo e non perdervi nulla nulla sul mondo del calcio il link in descrizione l'app gratuite perché non la scarichi seconda cosetta un like al video giusto così terza cosuccia visto che proprio sto esagerando sto proprio la sto facendo fuori dal vaso attenzione perché se qualcuno è sul vaso non voglio no 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 state con iscrivetevi al canale attivate pure la campanella e so quattro tra l'altro perché poi nel post partita ci rivediamo avete motivazione non valida motivazione inconsistente non lo so io ci ho provato detto ciò parliamo di Verona di Verona Milan allora come dicevo un Milan già in totale emergenza Ibra Ciala Benasser Rebic Maldini che poi tra le tante assenze ci buttiamo anche dentro Maldini perché no attenzione perché me ne sono dimenticato qualcuno Vanzukic inoltre si aggiungono Teo e Tonali che partiranno dalla panchina per dei relativi acciacchi chiamati così e capisce che quando vai a leggere il nome dei potenziali titolari capisce che non sarà affatto semplice perché tanti giovani in una partita dove serve maturità per portarla a casa uno snodo importante che poi vale vale il sogno di rimanere lì agganciati alla possibilità per lottartela fino alla fine ma anche per consolidare un bottino che non deve essere mai scontato e detto ciò la prova di formazione parla chiara non ha Roma in porta Calabria a destra dalò a sinistra già solo questo nome fa fa un po' allarmare i cugini i centrali Tomori e Romagnoli va verso si va verso un forfè momentaneo o comunque non da titolare per Kier e a centrocampo affiancherà che si, lo dicevo prima, Mete i tre dietro Leao, Salem e Kers, Kronic e Castiglieco non è, se dovesse essere rispettata questa probabile formazione non è un affare, non è un affare facile, non è un affare semplice se proprio devo fare un nome dico Leao mi aspetterei tanto da lui perché quello che ha lo strap e quello che ha la tecnica e quello che ha la qualità per darti qualcosa in più detto ciò non sarà semplice e comunque vado anche alle lamentele un po' riportate il dubbio preparazione la preparazione, ma i preparatori ma è possibile che ci siano così tanti infortuni ma qualcosa va fatto io voglio dire solo una cosa il Milan è da un anno che rende ma per rendimento non parlo neanche poi dei risultati acquisiti parlo proprio del rendimento fisico una squadra che per un anno ha battagliato ha dato tanto mi è sempre sembrata spigliata sempre leggera fatemi passare sti termini leggera ecco una squadra sana ecco ed è una squadra che non ha mai riposato le ha giocate praticamente tutte poi se vogliamo appunto la preparazione non credo sia stata quasi mai neanche fatta forse l'è levemente accennata perché il Milan si è ritrovato poi ad andare subito a giocarsi i preliminari di Europa League non ce lo dimentichiamo e quindi è una squadra che per un anno e per un anno non dico una stagione per un anno solare forse anche di più è stata lì a lottare a lottare a lottare voi non voi e prima o poi ragazzi miei stiamo parlando di esseri umani voi non voi prima o poi devi mollare qualcosa come si chiama pagherai lo scotto voglio utilizzare voglio utilizzare un aforisma no dettato dal film Carlito's Way poi io amo il cinema lo amo a dismisura e cosa dice Carlito interpretato poi dal Pacino in quel film strepitoso strabiliante andatelo a vedere recuperatelo per favore se vi siete perso un pezzo di cinema perché quello è un pezzo di cinema che non che non va mai accantonato e diceva non puoi andare sempre a tavoletta diceva ti devi fermare prima o poi non puoi continuare a spingere finirei per fondere ti distruggerai ecco vale lo stesso per per il Milan in questo caso non si può andare sempre a mille stiamo parlando di esseri umani non stiamo parlando di di cavie di di robot o di altro e quindi credo che sia anche normale sia sia normale che prima o poi hai una ricaduta anche fisica e che i giocatori non reggono e quindi non non farei polemico non non cioè non non attribuirei delle delle colpe sostanzialmente tutto tutto qua da questo punto da questo punto di vista se vogliamo questo è solo il mio umile il mio umile pensiero dall'altra parte ragazzi invece un Verone che sembrano andare sempre a mille però ricordiamolo perché ecco se parliamo di condizione fisica c'è tanto da imparare dal Verone che è una squadra che veramente ogni partita ti dà l'anima ma ti dà l'anima davvero ecco però qui parliamo di una squadra che in ambito europeo non ha disputato nessuna coppa e quindi è un altro è un altro discorso c'è un altro discorso da fare ma ritorno sul gettare gettare il sangue ecco quello sì il Verone di Juric perché dico che è una sfida proibitiva e serve quasi una sorta di impresa che poi nel calcio come nella vita nulla è impossibile però difficile sì perché il Verone di Juric non ti regala nulla il Verone di Juric non ti regala nulla ti dice voi portate a casa di tre punti ti devi sudare le sette camicie e alcune volte non basta neanche quindi non sarà affatto semplice è una partita che che mi incuriosisce che mi incuriosisce perché perché per il Milan è difficile ma allo stesso tempo porti a casa un risultato pieno e poi dimostri che è veramente il gruppo a fare la differenza se porti a casa un risultato del genere in totale emergenza dici che il gruppo è più forte di tutto e tutti sarebbe una risposta sontuosa attenzione quindi vediamo vediamo un po' cosa ne esce fuori sono incuriosito e fatemi sapere cosa ne pensate voi a tale pro vi aspetto intanto sotto nei commenti vi aspetto anche nel post partita perché no io nell'attesa vi abbraccio caramente e niente ci becchiamo per Roma Genova un grande abbraccio da Neschi grazie a tutti